Va bene, buongiorno a tutti. Oggi vediamo insieme un esercizio sulla ricorsione, che è un tema che avete iniziato a trattare da poco direi, ed è forse uno degli scogli principali di questo corso, almeno concettualmente. Poi, come avete già probabilmente visto, il risolvere questi esercizi è abbastanza automatico, nel senso che la procedura è spesso simile e si devono scrivere poche righe di codice, ma bisogna sapere che cosa si sta facendo. Quindi la ricorsione è una parte importante di questo corso ed è spesso anche spesso inserita nei temi d'esame. Oggi vediamo in particolare un esercizio chiamato Voti Nobel, che potete già trovare su GitHub. Vediamo un po' le specifiche di questo esercizio che dobbiamo andare a risolvere insieme. Lo scopo è partecipare all'edizione Nobel 2021 dell'Ateneo, ovviamente un gioco, e in fase di iscrizione a questo concorso è necessario specificare un sottoinsieme di esami sostenuti per un totale di esattamente M crediti con la media più alta. Quindi la variabile M varia di anno in anno in base alle specifiche del concorso e vedremo che sarà un input del programma. Noi vogliamo quindi realizzare un programma Java dotato di interfaccia grafica che ci permetta di trovare sottoinsieme di esami di esattamente M crediti che massimizzi in sostanza la media. Ok? Ovviamente lo risolviamo tramite un algoritmo ricorsivo. C'è una differenza forse con gli esercizi che avete visto fino adesso, soprattutto se teniamo in considerazione ad esempio il calcolo degli anagrammi. Nel calcolo degli anagrammi ad esempio si andavano ad esplorare tutte le soluzioni possibili. Qui invece alla fine dell'esecuzione del programma ci interessa una sola soluzione. Stiamo parlando appunto di un problema di ottimizzazione in questo caso, che è in sostanza una variabile, una variante del problema dello zaino. Quindi questa è la differenza più grande rispetto almeno agli anagrammi. Non vogliamo tutte le soluzioni possibili, ma ne vogliamo una sola, la migliore. Abbiamo già un progetto base da cui partire perché ci concentriamo sulla logica della ricorsione. Vediamo cosa ci offre. Innanzitutto questi esami sono salvati in un database, esami triennale.sql, che io ho già importato, vi chiedo se state seguendo l'esercizio passo a passo di farlo anche voi. Un database facilissimo con una sola tabella in cui ogni esame è modellato dal suo codice, dal voto, dai crediti e dal suo nome. Il database è già riempito con alcuni esami di esempio, ma all'interno del progetto base, nella cartella DB, avete questo file, populate DB, con cui potete giocare a inserire i vostri esami e provare il programma con i vostri esami se volete, altrimenti potete lasciare quelli che ci sono già. Nel package DB ci sono già tutti i metodi per accedere al database, perché come detto non ci interessa il database in questo caso, ma la logica ricorsiva. Quindi abbiamo la DB Connect, ricordatevi di cambiare la password. Il DAO, con già tutti i metodi per inserire un esame, recuperare tutti gli esami, eccetera. E poi una classe di test che vabbè, non ci interessa. Non solo, il progetto base contiene già anche del codice. Se andiamo a vedere nel modello, abbiamo il Java Bean esame, che ci modella appunto le righe del database. E poi anche nel modello abbiamo già due metodi di supporto che ci serviranno per calcolare la media data un insieme di esami e per sommare... Mario chiede se posso aumentare il fonte, mi dimentico sempre, scusate... e per sommare i crediti di un esame. Vedremo che questi metodi ci saranno utili nell'esercizio. E poi c'è questo metodo che ovviamente è quello che dovremo fare, il metodo ricorsivo. C'è già anche un'interfaccia grafica, quindi se io vado a lanciare il mio main... dovrebbe in teoria lanciarmi la... Ah, ok, ce l'avevo sull'altro schermo, eccola qua. L'interfaccia grafica, come vedete possiamo specificare un numero di crediti, la variabile M, quella di cui abbiamo parlato prima leggendo le specifiche del programma. e poi c'è il bottone per calcolare la miglior combinazione possibile di, ripeto, esattamente M crediti, né uno di più né uno di meno. C'è già anche, credo, il controllo degli errori, quindi già tutto fatto. Dobbiamo proprio solo più focalizzarci sul metodo ricorsivo. Ok, questa è la panoramica del progetto base. direi che è buona norma prima di buttarsi a scrivere codice ragionare un attimo sulla soluzione, magari anche scrivendo qualcosa per poi avere bene in mente quando andiamo a scrivere effettivamente il codice che tipo di soluzione vogliamo andare a effettuare. Quindi se non ci sono domande vado a crearmi un file txt qua dentro che chiamo traccia soluzione.txt con cui andiamo a ragionare insieme su come vogliamo risolvere questo problema. Allora, possiamo partire cercando di identificare che cosa vuol dire risolvere questo problema. In prima battuta dobbiamo pensare a un programma che generi tutti i possibili sotto insiemi di un insieme dato, che è l'insieme di tutti i miei esami, ok? Quindi sto parlando di insiemi proprio perché non mi interessa l'ordine con cui vengono salvati questi esami. Nella soluzione finale il fatto che ci sia prima analisi o prima fisica è indifferente. L'importante è che ci siano entrambe se contribuiscono alla soluzione migliore. Quindi sto già parlando di insiemi e questo mi fa già pensare che per salvare le soluzioni andranno bene dei set che non modellano l'ordine. In questo caso l'ordine non ci interessa. Possiamo iniziare a ragionare sugli input e gli output del problema. Quali sono gli input che abbiamo in questo problema? Beh, innanzitutto abbiamo l'insieme di dati di esami di partenza, quindi un insieme di oggetti di tipo esame che possiamo chiamare ad esempio, che ne so, partenza. E poi abbiamo un'altra variabile di input che è il numero di crediti con cui si deve partecipare al concorso, la variabile M. Invece in output che cosa vogliamo? Beh, vogliamo, abbiamo detto, un insieme, abbiamo capito che andrebbe bene un set per modellare questo insieme, di esami, quindi di oggetti di tipo esame, sotto insieme di partenza, la media, riduco un po' il fondo, tale che, allora, tale che la somma, utilizzo un po' un metalinguaggio, ma ci capiamo, la somma di esame punto crediti sia uguale o uguale a M e la media di esame punto voto sia massima. Ok? Queste sono, ho tradotto, le specifiche del del programma, dividendo in input e output. Benissimo. A partire da questo, come risolviamo il problema? Abbiamo due tipologie di approcci. Cerchiamo di vederle entrambe. L'approccio 1, oserei chiamarlo il più stupido, ok? Vedremo poi perché. È simile al problema degli anagrammi che avete già visto. come funziona questo approccio? Ad ogni livello della ricorsione, ok? Aggiungo un esame. Qual è il problema? devo decidere quale. Ok? Non so a priori quale vado ad inserire nella soluzione, li provo tutti. Simile agli anagrammi. cioè al primo giro della ricorsione, ok, provo a inserire il primo elemento e faccio andare avanti la ricorsione supponendo di avere inserito il primo esame. Poi torno indietro, provo ad iniziare con il secondo e faccio andare avanti la ricorsione in modo che il primo elemento sia il secondo esame e così via. esattamente come come per gli anagrammi. Quindi che cos'è una soluzione parziale? Una soluzione parziale sarà parziale uguale un sotto insieme di esattamente L elementi dove L è il livello della ricorsione. E come faccio a generare ad ogni passo la soluzione parziale? Generazione soluzione parziale. Sto cercando di seguire più o meno lo schema che dovreste aver già anche visto in laboratorio ad esempio. Mario chiede non mi è chiaro cosa rappresenta M M è il numero di crediti cioè il parametro iniziale che andiamo a mettere lancio un attimo il programma il parametro iniziale che andiamo a mettere qui cioè se io metto 50 voglio avere come risultato i miei 50 crediti migliori diciamo così ok? Un insieme di miei esami che come somma di crediti dia esattamente 50 e la cui media sia massima ok? Quindi i miei 50 crediti migliori. Dicevamo come genero la soluzione parziale con questo approccio 1 secondo voi se avete se avete qualche idea se no provo a spiegarvelo allora diremo che per tutti i casi che non ho ancora considerato ok? Quindi sono tutti gli esami non ancora compresi in parziale provo ad aggiungere ok? Provo ad aggiungere proviamo a scriverlo così provo ad aggiungere faccio andare avanti la ricorsione e poi faccio backtracking quindi a livello l uguale a 0 a livello 0 della ricorsione ho n scelte possibili dove n è il numero di esami che ho nell'insieme di partenza ok? quindi a livello 0 potrò avere parziale uguale ad e1 ad esempio esame 1 ma potrò anche avere parziale uguale ad e2 fino a parziale uguale ad e n questo è il primo livello di ricorsione Matteo chiede non ho ben capito cosa sia il backtracking il backtracking è proprio questo cioè al primo livello della ricorsione metto in parziale e1 ok? e faccio andare avanti la ricorsione supponendo che il mio la mia soluzione parziale contenga e1 come primo elemento ma poi per provare altre soluzioni che possibilmente possono essere migliori di questa che parte con e1 torno indietro tolgo e1 faccio backtracking quindi e metto e2 e faccio andare avanti la ricorsione supponendo che la mia parziale inizi con e2 questo è il concetto di backtracking quindi nell'albero di ricorsione lo so che è un po' difficile farlo su su un file txt ma ci arrangiamo con quello che abbiamo se qui andiamo avanti a livello l uguale a 1 ok? potrò avere parziale uguale e1 e2 cioè provo a far andare avanti la ricorsione supponendo che la mia soluzione parziale contenga nei primi due elementi e1 e le2 ma potrò anche avere parziale uguale ad e1 e3 facendo backtracking tolgo e2 provo con e3 e via dicendo in questo caso invece parziale sarà uguale a qui siamo nel ramo della ricorsione che parte con e2 e2 virgola e1 partendo sapendo che la mia soluzione contiene e2 considero tutti gli esami che non sono ancora compresi in parziale e provo ad aggiungerli beh il primo elemento che non è ancora aggiunto a parziale è proprio e1 ma potrò anche avere parziale uguale e2 e3 ad esempio e così via francesco chiede potrei salvarmi il risultato più alto e continuare con l'algoritmo facendo confronti ogni volta sì questo è quello che facciamo dopo cioè il controllo della soluzione migliore però qui stiamo ragionando su come generare ad ogni passo delle soluzioni parziali diverse che andranno poi confrontate mano a mano con la migliore che ho trovato fino a quel punto però siamo ancora al passo prima è chiaro come funziona questo approccio esattamente come per gli anagrammi ad ogni giro della ricorsione guardo tutti quelli che non ho ancora considerato e provo ad aggiungerli e torno indietro per provare soluzioni diverse francesco dice giustamente ma l'ordine non dovrebbe non importare esatto come vedete qui noi consideriamo sia un parziale e1 e2 che è un parziale e2 e1 questo di per sé non è che ci preclude nell'arrivare a una soluzione qual è il problema è che stiamo confrontando delle soluzioni parziali inutili cioè verificare questa soluzione parziale è inutile perché per come è strutturato il nostro problema sarà uguale a questa ok quindi qui vediamo che con questo approccio per questo l'ho chiamato un po' più stupido stiamo facendo delle operazioni inutili che potremmo evitare e vedremo che questo influirà molto sulle performance Mario chiede possiamo considerare un corso parzialmente esempio di un corso da otto crediti ne consideriamo solo sei no prendiamo gli esami per quello che sono ok questo per semplificare un po' un po' il problema va bene questa è la generazione delle soluzioni parziali spero sia sia chiaro soprattutto da quello che abbiamo detto a voce non di sicuro da questo schemino cosa dobbiamo ancora considerare direi quali sono i casi terminali allora qual è il primo caso terminale il più facile secondo voi quando è che la ricorsione si deve fermare allora Marco fa una domanda per quanto riguarda quello che abbiamo fatto prima ma in l uguale a 1 quando fa e1 e2 e poi e1 e3 è lì che fa backtracking quando sostituisce e2 con e3 esatto certo a ogni livello cioè ci sono molti backtrack durante l'esecuzione della ricorsione quello di cui stai parlando è il backtracking del livello 1 ma ci sarà backtracking anche qua quando tolgo e1 e provo con e2 ok dicevamo i casi terminali allora alcuni dicono quando la somma dei crediti è m Mario dice quando sono finiti tutti gli esami ci sono due casi distinti partirei da quando sono finiti tutti gli esami che è forse il più facile quindi il primo potrebbe essere quando l è uguale a partenza punto size ho considerato tutti gli esami in questo caso non ci sono più esami da aggiungere ok e allora qui viene quello che dicevamo prima essendo un problema di ottimizzazione non sappiamo se la soluzione parziale a cui siamo giunti va bene per noi oppure no dobbiamo controllare la soluzione parziale e qual è il concetto qui allora innanzitutto in questo specifico caso di terminazione non sappiamo se la soluzione parziale rispetta il vincolo sui crediti noi sappiamo solo che non ci sono più esami da aggiungere quindi dovremmo dire dovremmo controllare innanzitutto che il vincolo sui crediti sia rispettato quindi se è parziale punto somma crediti uguale uguale a m questo vuol dire ok è una soluzione che potrebbe potenzialmente essere buona la controllo quindi se la parziale punto media diciamo così poi ovviamente ripeto che è un metalinguaggio che sto inventando sul momento ma è solo per capirci se parziale punto media è maggiore di tutte le medie viste fino ad ora allora cosa faccio tengo traccia di parziale cioè la parziale che sto analizzando adesso per me fino a questo momento diventa la soluzione migliore altrimenti non faccio niente se invece parziale punto somma crediti è diverso da m beh allora abbandono la ricorsione non è una soluzione che mi può andare bene perché non rispetta il vincolo sui crediti ok questo è il caso terminale forse più facile da identificare ma la domanda che dobbiamo farci Giorgia chiede scusi ma partenza punto size non sarà zero quando non ci saranno più esami da aggiungere partenza punto size a cosa ti riferisci non vedo non vedo un partenza punto size ah sì scusami sì qua sì hai ragione hai ragione scusami sì partenza punto size no in realtà no partenza rimane sempre uguale quello è il nostro è il nostro insieme di partenza quello che cambia è parziale quindi partenza è un set di 20 esami i miei 20 esami iniziali e quello sarà ma noi non togliamo da partenza noi prendiamo da partenza ma senza togliere prendiamo e mettiamo in parziale sì in realtà però poi dobbiamo controllare che dobbiamo però controllare che ovviamente un esame l'abbiamo non l'abbiamo già inserito in parziale comunque per evitare confusioni facciamo così L uguale a N e siamo a posto sì esatto Chiara dice un modo per controllare che di avere o non avere già inserito un esame in parziale è quello di svuotare mano a mano partenza ma ci possono essere anche metodi alternativi con cui non tocchiamo proprio partenza comunque mettiamo L uguale a N così è più chiaro va bene andiamo avanti dicevo siamo obbligati però a arrivare fino al fondo della ricorsione cioè in questo caso stiamo esplorando tutti i rami stiamo arrivando al caso terminale in cui non ci sono più esami da aggiungere siamo veramente obbligati a arrivare a questo punto direi di no perché come diceva qualcuno prima un altro caso di terminazione è quando la somma dei crediti raggiunge M cioè se io durante la mia ricorsione raggiungo una soluzione parziale che dia esattamente M crediti è inutile andare avanti perché intanto so già che da lì in poi quella soluzione parziale non potrà far altro che sforare gli M crediti quindi un altro caso di terminazione può essere parziale punto somma crediti maggiore o uguale di M questo implica mi fermo subito è inutile andare avanti e qui devo chiedermi ovviamente se maggiore di M ok magari ero a 49 crediti il mio limite è 50 ho un esame da 4 crediti supero il 50 quindi siamo maggiori di M stop scarto parziale e non vado avanti se invece è uguale a M allora dovrò fare lo stesso controllo di prima controllo soluzione parziale quello che abbiamo fatto qua sopra e di nuovo se la media è migliore della migliore temporanea che ho salvato adesso allora la sovrascrivo se invece non è migliore la lascio perdere Mario dice se era già scritto sopra no qui il caso terminale è quando raggiungiamo la fine degli esami cioè non ci sono più esami da controllare la mia soluzione parziale contiene tutti gli esami di partenza potrebbe capitare come no però potrebbe capitare qui invece è un caso terminale che potrebbe accadere prima cioè io appena mi accordo accorgo che la mia parziale supera m non vado più avanti e non aggiungo più perché intanto so già che la mia le soluzioni parziali che che verranno dopo non saranno più accettabili francesco chiede ma mettendo maggiore di m l'algoritmo sale di un livello e basta modificando solo l'ultimo elemento aggiunto la soluzione parziale non ho ben chiara la tua domanda secondo me il tuo dubbio si risolverà poi quando andiamo a fare il codice però concettualmente no supponiamo di essere qui nell'albero della ricorsione qua ho appena aggiunto e3 e scopro che la somma dei crediti di e2 più e3 da 41 ok il mio limite era era 40 allora è inutile che io passi a livello successivo della ricorsione andando magari ad esplorare una soluzione parziale e2 e3 e4 perché tanto so già che già solo e2 e3 sforano coi crediti e allora non esploro più l'albero di ricorsione che da lì partirebbe ad andare avanti mi fermo fermo quell'albero di ricorsione mentre avessi solo questo caso terminale io lo continuerei quell'albero di ricorsione arrivando fino al fondo ok quindi questo secondo caso terminale serve a fermare un po' prima la ricorsione e ovviamente ne beneficiamo dal punto di vista delle performance esatto per ottimizzare un po' la cosa quindi mi sembra di aver detto tutto su questo primo approccio non so se ci sono altre domande che cosa vuol dire generare un sottoproblema qui vuol dire decidere no scusate vuol dire partire da un parziale e aggiungerci un elemento che non ho ancora considerato li provo a tutti e vado avanti direi proviamo a farlo e forse risolveremo tutti i nostri dubbi vado ad aprire il mio model e proviamo a risolvere insieme l'esercizio con questo con questo approccio allora abbiamo sicuramente bisogno di alcune strutture dati innanzitutto direi la lista di esami di partenza abbiamo chiamato partenza importiamo la lista poi avremo bisogno anche di che cosa beh sicuramente essendo un problema di ottimizzazione abbiamo letto vogliamo una sola soluzione alla fine della fiera avremo bisogno di una struttura dati per salvarci la soluzione migliore non ci interessa l'ordine della soluzione quindi prevedo un set di esami chiamiamola soluzione migliore corin chiede se non riusciamo a trovare una combinazione che ci dà esattamente il numero di crediti diciamo stampiamo il messaggio non ho trovato nessuna combinazione ok non ci basta il set per salvarci la soluzione migliore ma avremo probabilmente bisogno anche di una variabile double per salvarci la media di questa soluzione soluzione ok queste due variabili ci serviranno mano a mano per tenere traccia della soluzione migliore che abbiamo incontrato fino a quel momento ed eventualmente di sovrascriverla per arrivare alla fine ad avere un'unica soluzione allora dobbiamo innanzitutto riempire questa lista di esami di partenza che andiamo a prendere dal database direi di farlo una sola volta nel costruttore ad esempio del modello quindi mi creo un costruttore della classe model e vado a crearmi un DAO esame DAO uguale new esame DAO e recupero di spunto partenza dal DAO ovviamente lo devo importare import esami DAO qua andiamo a metterci le parentesi dicevo il DAO ha già un metodo che mi restituisce tutti gli esami in una lista quindi di spunto partenza uguale DAO punto get tutti esami Giuseppe chiede un'ottimizzazione dell'algoritmo si ottiene inserendo per primi voti più alti magari ordinando gli esami per voto si potrebbe essere una soluzione ma vedremo dopo degli approcci più furbi per migliorare le performance va bene ora dobbiamo agire su questo metodo ricorsivo numero crediti sarebbe il vincolo m la variabile m allora come facciamo beh abbiamo bisogno di una di nuovo di una ulteriore struttura dati per tenere traccia della soluzione parziale ovviamente il tipo di questa struttura dati rispecchia il tipo che abbiamo usato qui per la soluzione migliore quindi set di esame parziale un new hash set che inizialmente è vuoto ok new hash set di esame questa è la nostra soluzione parziale che andremo mano a mano a riempire togliere eccetera poi questa soluzione migliore l'ho solo dichiarata dovrò anche farne il new da qualche parte dove è meglio fare questo new beh potremmo farlo qui ma supponendo che il modello venga creato una sola volta quando noi lanciamo il programma è meglio fare la new della soluzione migliore qua dentro perché così ogni volta che l'utente clicca sul bottone ripartiamo da zero e puliamo tutte le variabili in gioco quindi qui dico che soluzione migliore uguale new hash set di esame ovviamente stiamo partendo e quindi anche soluzione migliore è vuota inizialmente posso diciamo così pulire anche la media soluzione la imposto inizialmente a zero poi che cosa avrò in questo metodo che diciamo è quello che sta a livello più alto avrò la chiamata al metodo ricorsivo cioè ok delego la ricorsione la ricerca della soluzione migliore quindi avrò un metodo cerca a cui passo parziale che inizialmente è vuota e andremo a riempire e svuotare mano a mano il livello della ricorsione direi partiamo da livello zero e abbiamo ancora un parametro il numero crediti me lo sto solo immaginando questo metodo poi andremo a crearlo però per il momento mi sembrano questi tre i parametri che servono anche perché soluzione migliore è un attributo del modello a cui possiamo accedere anche senza passarlo come parametro quindi avrò questa funzione ricorsiva e quando questa funzione ricorsiva finirà io potrò ritornare la mia soluzione migliore se per caso il metodo ricorsivo non troverà nessuna combinazione beh questa soluzione migliore sarà vuota e sarà il controller che controllando i dati ricevuti stabilirà se esiste una soluzione migliore oppure no questo è l'impostazione della ricorsione il metodo ricorsivo però è questo cerca e quindi me lo faccio generare da eclipse eccolo qua parziale chiamiamo questo l il livello e il numero crediti lasciamo pure il numero crediti sarebbe m mettiamo m per allinearci con le specifiche del dell'esercizio mario chiede perché non passiamo direttamente soluzione migliore anziché parziale no allora soluzione migliore è una variabile un attributo a livello di classe quindi del modello che verrà solamente usata quando troveremo delle soluzioni più buone di tutte quelle che abbiamo visto fino a quel momento mentre parziale quella che serve al metodo ricorsivo perché quella che è il metodo ricorsivo usa per esplorare i vari rami della ricorsione ma sicuramente ti si chiarirà questo dubbio adesso facendo facendo il il metodo allora il metodo a e diciamo che questo pattern che utilizzo è abbastanza replicabile per tutti gli esercizi ricorsivi come prima cosa i casi terminali Giorgia chiede potevamo creare anche parziale fuori dal metodo come abbiamo fatto per partenza soluzione migliore media soluzione può inizializzarla dentro al metodo sì era anche un altro un altro modo dicevo casi terminali li abbiamo specificati prima abbiamo il caso terminale if di quando raggiungiamo la fine dei livelli diciamo così come abbiamo messo andiamo a vedere qua l uguale a n ok non ci sono più esami da raggiungere copiamo questo commento quindi questo è il primo caso terminale if l uguale uguale io qua uso partenza punto size perché io partenza non la vado a modificare ok quindi sono sicuro che non cambierà partenza e quindi ho considerato tutti gli esami quando arrivo al livello che corrisponde alla size al numero di elementi che ho all'inizio quindi questo è il primo caso di terminazione però lasciamo lasciamolo perdere un attimo proviamo ad aggiungerci in testa prima l'altro caso di terminazione che abbiamo detto essere un po' più furbo nel senso che abbiamo detto non siamo obbligati ad arrivare alla fine della ricorsione ci possiamo fermare prima se la somma dei crediti sfora già ok quindi cosa devo fare controllare i crediti beh lo posso fare int crediti uguale lo posso utilizzare questo metodo che ho già somma crediti per farmi restituire la somma corrente dei crediti di parziale ok la mia parziale contiene due esami vediamo a quanti crediti arriviamo se siamo già oltre mi fermo qui quindi posso dire che if crediti maggiore di m sicuramente questa soluzione non mi può andare bene perché non rispettiamo il vincolo dei crediti benissimo return non faccio niente non continuo torno indietro e questo albero lo lascio perdere c'è il caso invece in cui crediti sia uguale uguale ad m in questo caso potenzialmente la mia soluzione potrebbe andar bene potrebbe andar bene se la sua media è migliore di tutte le medie che ho visto fino ad adesso ok allora controlliamo la media double media uguale ho qui l'altro metodo di supporto che posso usare calcola media di parziale e qui è proprio il punto dell'ottimizzazione dico if media è maggiore di media soluzione magari chiamiamo questa variabile media soluzione migliore così si capisce di più è più intuitivo quindi if media è maggiore della media della soluzione migliore che era la variabile in cui tenevo traccia della soluzione migliore della media della soluzione migliore vista fino ad adesso vuol dire vuol dire che questa parziale che sto esaminando deve sovrascrivere quella che avevo già in pancia e quindi dico che come l'abbiamo chiamata soluzione migliore uguale new hash set di parziale attenzione non ne copio solo il riferimento la vado proprio a sovrascrivere con una new la mia soluzione migliore diventa adesso la parziale che sto analizzando adesso e di conseguenza sovrascrivo anche la media della soluzione migliore migliore uguale media Lara chiede nel lab io ho creato questi metodi della ricorsione del DAO e poi li ho richiamati nel model che li passa al control lei invece li sta creando nel model cosa è meglio allora nel DAO di solito ci stanno i metodi che accedono al database questi invece sono metodi relativi alla logica applicativa del modello quindi secondo me è bene che stiano nel modello poi il tuo programma funzionerà lo stesso ma concettualmente è meglio dividere queste cose nel modo che ti ho detto quindi siamo qui credit uguale a m controllo se il caso sovrascrivo se arrivo per caso in questo punto ok sicuramente crediti crediti minore di m cioè in teoria potrei ancora andare avanti è chiaro posso ancora andare avanti tranne nel caso in cui sia nel caso terminale in cui li ho già considerati tutti quindi se li ho già considerati tutti ho questa situazione ho dei crediti che sono minori di m una somma di crediti che sono minori di m e non ho più esami da considerare questo cosa vuol dire return cioè questa soluzione non mi può andare bene perché i crediti sono minori io voglio raggiungere esattamente 50 crediti qua ne ho 48 ok non va bene ma non posso neanche più aggiungere un esame perché non ne ho più e allora ritorno non vado più avanti sono chiari questi casi di terminazione se non rientro nei casi di terminazione allora posso generare i sotto problemi vado avanti a costruire a esplorare il ramo che sto che sto esplorando Mario chiede non manca un return nel caso di crediti uguale uguale a M bravissimo anche Alessandro credo lo dica lo volevo aggiungere dopo ma qui quando crediti uguale uguale a M potremmo anche andare avanti ma anche qui è inutile andare avanti perché siamo già alla soluzione che rispecchia esattamente il nostro il nostro vincolo ok voglio 50 crediti la mia soluzione da proprio 50 crediti qualunque esame io aggiungessi dopo sforerei di sicuro allora qui esco uscita rapida dalla ricorsione non mi interessa più andare avanti grazie per la la segnalazione di nuovo se non avessimo avuto questa return il programma funzionava lo stesso ma avremmo esplorato degli alberi ricorsivi dei sotto sotto alberi diciamo così inutili perché avremmo già sforato il numero dei crediti ok generiamo i sottoproblemi qui non siamo ancora nei casi terminali come facciamo beh con un semplice ciclo for esame e in partenza devo provare ad aggiungere gli esami che non ho ancora considerato beh lo faccio controllando il mio parziale se parziale non contiene l'esame e vedete che in questo modo con questo controllo non vado a toccare partenza partenza rimane sempre uguale l'alternativa sarebbe svuotare mano a mano partenza però con la contains lascio partenza così come è così posso usarne anche la size qui e utilizzo la contains per vedere se quell'esame di partenza l'ho già considerato oppure no se non lo contiene ok provo ad aggiungerlo parziale punto add e lancio la ricorsione supponendo di aver aggiunto e cerca 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 di che cosa di parziale livello più uno e poi abbiamo ancora il numero di crediti m lancio la ricorsione e torno indietro faccio backtrack rimuovo quelle remove e qui dove avviene il backtracking Marco chiede mi correga se sbaglio il parziale sarebbe una specie di sottoproblema ma se il parziale si reputa migliore io lo vado a mettere nella pancia della soluzione migliore giusto? sì esatto il parziale è quella cosa che si costruisce mano a mano quando questa parziale soluzione parziale rispetta i vincoli ed è migliore di tutte quelle che ho visto fino ad adesso me la vado a tenere ne vado a tenere traccia nel mio programma in soluzione migliore eventualmente sovrascriverò di nuovo soluzione migliore se mai ne incontrerò altre migliori ok? aggiungo lancio rimuovo questo è il classico schema ricorsivo va bene direi che qua è tutto fatto possiamo collegarlo al controllore il controllore è già bello che è pronto ah no è già tutto fatto perché il controllore è già impostato nel progetto base richiameremo questo metodo calcola sotto insieme esami che è il metodo che vrappa diciamo così il metodo ricorsivo quindi richiamiamo questo che poi di conseguenza chiama il cerca proviamo a lanciarlo e vediamo se succede qualcosa oppure no proviamo con rispondo solo alla domanda non ho capito perché controlliamo se parziale contiene l'esame quindi ti stai riferendo qui beh perché non possiamo avere una soluzione parziale che contenga due volte lo stesso esame ok se parziale contiene già E1 l'esame numero 1 è inutile che io prova ad aggiungerlo di nuovo perché c'è già allora salto il ciclo salto il giro quel giro del ciclo e passo ad E2 e provo ad aggiungere E2 se non è contenuto anche lui nella parziale allora ecco qui proviamo con un numero di crediti basso 20 calcolo la migliore combinazione vediamo che con questi due esami da 10 crediti con cui ho preso 30 in entrambi direi che è sicuramente la soluzione migliore in cui la media è 30 e vediamo che ci impiega il metodo 9 millisecondi proviamo un po' invece con 50 crediti faccio partire il metodo ricorsivo e vediamo che tac possiamo stare qui credo anche delle ore ma il nostro programma non riuscirà a darci una una risposta vi assicuro che c'è una soluzione per 50 crediti lo vediamo dopo ma con questo metodo esploriamo tutte le combinazioni possibili e non riusciamo ad arrivare a una soluzione in un tempo ragionevole allora io ora lo stoppo e cerchiamo di provare a trovare una soluzione più efficiente questo essendo simile agli anagrammi a una complessità di n fattoriale che cresce addirittura più dell'esponenziale e quindi quando noi andiamo a aumentare questo n non riusciamo ad arrivare alla fine dell'esecuzione in tempi ragionevoli Manuel chiede non manca il caso in cui non dovesse trovare una soluzione beh se non trova una soluzione ci restituirà una soluzione migliore vuota ok e quindi possiamo controllare da lì se se c'è una soluzione oppure no Beatrice dice a me con 50 si blocca tutto anche a me si è bloccato tutto quindi è perfettamente normale infatti ora andiamo a cercare un modo alternativo per risolvere in modo più efficiente il problema Mario dice anziché passarci sempre M converrebbe salvarci M nella classe sì è un'alternativa che però non influisce in modo significativo sulle performance quindi va bene anche così allora ragioniamo un attimo su un approccio un po' più furbo approccio 2 come possiamo migliorare questa soluzione l'idea potrebbe essere di generare i sotto insiemi del nostro insieme di partenza un caso per volta decidendo esame per esame quindi andando in ordine e 1 e 2 3 e 4 se debba far parte della soluzione oppure no cioè ad ogni livello della ricorsione io mi chiedo ok questo esame è 1 lo inserisco nella soluzione o non lo inserisco provo tutti e due i rami quindi ho una corrispondenza tra il livello della ricorsione e l'esame che sto considerando quindi vado in ordine scorro la mia lista iniziale in ordine e 1 e 2 3 e 4 e al primo livello analizzo e 1 ok provo a metterlo e vado avanti provo a non metterlo e vado avanti questo potrebbe essere un'idea che migliora le performance perché ci permette di andare in ordine e quindi di non ricadere in questa situazione spiacevole in cui noi consideriamo sia e 1 che e 1 e 2 che e 2 e 1 abbiamo visto che questo esplorare queste due soluzioni è inutile perché non conta l'ordine beh un modo per evitare che questo accada è scorrere la mia lista di partenza in ordine avere una corrispondenza tra l'esame che sto scorrendo e il livello della ricorsione e ad ogni livello chiedermi lo inserisco o non lo inserisco quindi in questo caso il livello della ricorsione l indica quale corso aspettate che scrivo in minuscolo indica quale corso sto decidendo di mettere o non mettere nella soluzione quindi a livello zero della ricorsione considero cioè facciamo così supponiamo di avere partenza uguale e uno e due e tre e n a livello zero considero e uno e ho due possibilità lo metto quindi parziale uguale e uno ok oppure non lo metto e quindi parziale uguale all'insieme vuoto quindi livello zero ha solo due possibilità in questo caso non ne ha n come prima qui avevamo n possibilità a livello zero partire con e uno partire con e due partire con e n qui ha solo due possibilità o partire con e uno o partire con l'insieme vuoto andando avanti a livello l uguale uno considero e due e anche qui di nuovo ho due possibilità lo metto e quindi parziale diventa uguale ad e uno e due oppure non lo metto e quindi parziale è uguale a e uno e basta continua a rimanere e uno ma lo stesso livello si replica qui sotto quando io sono partito con l'insieme vuoto in questo caso considero sempre e due ok e anche qui ho i due casi lo metto e in questo caso parziale che partiva dall'insieme vuoto diventa e due oppure non lo metto e in questo caso parziale continua ad essere l'insieme vuoto vedete vedete che per ogni livello io ho solo due alternative mettere o non mettere l'elemento che sto considerando quindi qui il trucco è andare in ordine sapendo che appunto non ci interessa l'ordine quindi è inutile avere la soluzione e due e uno se ho già a quella al contrario ovviamente i casi terminali rimangono gli stessi di prima cambia solo appunto la generazione dei sottoproblemi quindi se non ci sono domande spero di essere stato chiaro ma di nuovo forse i dubbi che avete se li avete si risolveranno scrivendo il codice possiamo richiamare questo come cerca1 ok lo commentiamo un attimo e possiamo provare a definirci questo nuovo metodo void cerca2 i cui parametri sono esattamente gli stessi di quelli di prima mario dice così però rischiamo di avere stessi sottoproblemi che vengono risolti più volte non mi è chiaro cosa tu intenda per risolti più volte perché comunque noi un problema una soluzione parziale l'andiamo a controllare solo quando arriva il numero di crediti giusti ok sì parziale 2 ce lo ritroviamo più volte è vero però ti assicuro che sono meno casi rispetto a quelli di prima proprio perché ad ogni livello abbiamo due scelte possibili metto non metto quindi se in questo caso l'approccio 1 aveva complessità n fattoriale in questo secondo approccio avendo due scelte possibili per ogni caso abbiamo una complessità di 2 alla n che è sempre esponenziale ma è meno del fattoriale quindi vedremo che converge più velocemente con 50 ce la faremo ovviamente se andiamo ancora su anche con questo approccio non ce la facciamo perché è esponenziale però è sicuramente migliore di quello di prima torniamo nel modello dicevamo cerca 2 i casi terminali sono esattamente gli stessi allora io vado a prendermeli e li copio non stiamo lì a riscriverli questi sono i casi terminali li copio e li incollo anche qui non so perché me li abbia spostati ma mettiamo un attimo a posto qui dove sto agendo adesso è sempre il controllo della soluzione migliore controllo di ottimizzazione ok chiaro i casi terminali non cambiano cambia come generiamo è sotto problemi siamo arrivati qui possiamo continuare e quindi la domanda che ci dobbiamo fare partenza di l ed aggiungere oppure no provo entrambe le cose come faccio molto semplice parziale punto add provo ad aggiungere l'elemento che sto considerando e abbiamo detto manteniamo una relazione tra il livello della ricorsione e la posizione nell'insieme di partenza quindi provo ad aggiungere esami punto get di l non esami ma partenza al primo giro della ricorsione proverò ad aggiungere partenza punto get di 0 il primo elemento che abbiamo chiamato nel nostro txt è 1 del mio insieme di esami ok quindi prova ad aggiungerlo e faccio andare la ricorsione cerca 2 di parziale l più 1 m quindi qui esploriamo il ramo dove effettivamente io ho aggiunto l'elemento altrimenti provo l'altra combinazione quindi parziale faccio backtrack remove partenza punto get di l e faccio andare avanti la ricorsione supponendo di non aver aggiunto l'elemento cerca 2 parziale l più 1 m in questo caso ho due volte la chiamata della ricorsione perché esploro proprio le due strade però ho meno casi perché appunto riesco ad evitarmi i casi in cui ho le stesse soluzioni solo con l'ordine scambiato domande su questo proviamo a lanciare ci sono degli errori innanzitutto devo chiamare il metodo qua cerca 2 parziale 0 numero crediti ci sono ancora degli altri errori vediamo dove qua è cerca 1 questo era il primo approccio cerca 1 e poi abbiamo cerca 2 che richiamo a se stesso proviamo a lanciare il programma eccolo qua di nuovo proviamo con un numero di crediti basso 20 stessa soluzione di prima due esami entrambi con voto 30 quindi siamo sicuri che sia corretto perché più di questo non potremmo avere vediamo già però che ci abbiamo messo già di meno rispetto alla soluzione precedente 4 millisecondi prima mi sembra mi sembra fosse era 9 se non sbaglio in questo caso 4 quindi siamo già più veloci già solo con 20 crediti proviamo con 50 e vediamo se in questo caso con questo approccio nuovo riusciamo arrivare al termine calcola sì vedete 39 millisecondi prima addirittura non riuscivamo arrivare al termine girava lì avrebbe girato per ora per ore ora in 39 secondi millisecondi scusate riusciamo ad ottenere una soluzione di esattamente 50 crediti che massimizzi la media media 29 e questi sono gli esami contenuti nella soluzione quindi vedete che differenza abissale c'è tra le due soluzioni rispondo alle domande Alessandro dice mettendo 200 crediti mi dà un arithmetic exception come detto prima anche questo approccio ha comunque complessità esponenziale ok quindi se noi andiamo ad aumentare n non ce la facciamo neanche con questo approccio arrivare alla soluzione si si pianta il concetto è però che è comunque migliore dell'approccio di prima perché ad esempio con 50 riusciamo a farcela perché qui abbiamo una complessità esponenziale mentre prima avevamo una complessità fattoriale che è ancora peggio dell'esponenziale poi andiamo avanti a rispondere alle domande ce ne sono tantissime Mario chiede scusi non dovremmo mettere due liste diverse nei due casi quindi qui direi no perché noi proviamo entrambi i casi facendo il backtracking è proprio questo il concetto del backtrack cioè io qua provo un ramo un determinato ramo che è quello che prevede l'aggiunta di un elemento e lascio andare avanti la ricorsione tornando indietro rimuoverò l'elemento e proverò il ramo in cui quell'elemento non è stato inserito e quindi parziale deve per forza rimanere la stessa Chiara chiede potrebbe far rivedere la generazione di sottoproblemi è esattamente qui Mario dice parziale lo passiamo in cerca sì non so cosa si riferisce a questo commento magari al mio errore di prima Celeste chiede è possibile che a me impieghi dei tempi differenti è diverso per ognuno oppure qualcosa che non va no ovviamente il tempo di esecuzione dipende anche ad esempio dal tuo computer da quante applicazioni hai attualmente aperte quindi è normale che per persone diverse diciamo così ci siano risultati diversi quello che non deve cambiare è che uno è più veloce e l'altro è più lento cerca due in questo caso più veloce cerca uno è più lento ok quante domande aiuto Marco chiede mi scusi mi dice di cambiare password ma nel db connect dovrei cambiarla sì se devi accedere al database il posto in cui tu devi inserire la tua password è qua quindi qui deve esserci la tua password MySQL Francesco chiede posso vedere di nuovo l'algoritmo eccolo Mario chiede quando aggiungiamo un elemento passiamo a cerca parziale ok perfetto poi quando lo togliamo ripassiamo sempre parziale a cerca che però è stata modificata esatto è proprio questo il concetto cioè noi qui passiamo a cerca parziale con parziale che contiene l'elemento a posizione L ma poi richiamiamo la stessa funzione con parziale che non contiene quell'elemento quindi esploriamo due rami diversi in cui parziale è diversa proprio perché appunto ci sono questi due rami della ricorsione diversa Alessandro se si mette oltre il max crediti che ci sono da Arimetic Exception ma non si pianta perché il tempo lo stampa ci vorrebbe un catch sì non so perché dia Arimetic Exception probabilmente è una cosa relativa al controller numero crediti no non so la cosa derivi questa eccezione posso provare poi a controllare ma è strana cioè non c'è nessun controllo sul numero totale potresti anche scrivere mille in teoria quindi controllerò fatto stanchi con 200 non riusciresti neanche a farcela col cerca 2 ok perché n diventa diventa troppo grande allora provo a rispondere alle domande più concettuali poi le domande sugli errori vediamo di risolverle magari anche offline Francesco chiede ma come facciamo a capire che parziale sia migliore beh lo capiamo da da qui ok quando la nostra soluzione parziale rispetta il vincolo dei crediti cioè siamo arrivati a una soluzione parziale di esattamente m crediti andiamo a controllare la media della soluzione parziale con la media della soluzione migliore vista fino a quel momento se questa media è migliore se la media della parziale è migliore e nel primo caso lo sarà sempre perché all'inizio media soluzione migliore è zero quindi nel primo caso questa media sarà sempre migliore allora ci salviamo temporaneamente questa soluzione che per noi è la migliore che abbiamo visto fino a quel momento se per caso nel corso del programma troveremo altre medie più alte beh risovrascriviamo di nuovo e salviamo un'altra soluzione migliore la sostituiamo diciamo così mi sto un po' perdendo con le domande perché non so più a chi sto rispondendo è sempre Francesco credo sia relativo a questa risposta che ho appena dato quindi facciamo il controllo in fondo beh non è proprio in fondo ma lo facciamo in un determinato caso terminale sì se per in fondo intendi per caso terminale sì lo facciamo in fondo non lo facciamo ogni volta che aggiungiamo un elemento no perché sarebbe inutile farlo ogni volta che aggiungiamo un elemento perché ad esempio ok io ho la mia soluzione parziale vuota aggiungo il primo esame e potrei controllare subito la media della soluzione ma questo è inutile perché un solo esame probabilmente non mi darà M crediti e quindi anche se la media fosse migliore quella soluzione non è valida perché non rispetta il vincolo dei crediti che devono essere esattamente M Mario continua a chiedere su parziale ma magari se attivi il microfono è più facile capirci sì prof se vuole ci sono il mio dubbio era se noi ripassiamo la stessa lista di fatto faccio faccio l'esempio nel caso iniziale io ho 10 esami arrivo alla prima chiamata di cerca 2 o cerca che sia aggiungo il primo esame e ritorno nello stesso metodo quindi aggiungo poi il secondo esame sempre in cerca 2 aggiungo il terzo esame quindi di fatto poi arrivo dopo quando ci saranno tutti i ritorni a ritroso in cui la lista parziale di fatto già è piena ok magari sta con il microfono e poi ritorno sì ti sfugge proprio il concetto della ricorsione nel senso che è vero io arriverò a un certo punto ad avere parziale piena diciamo così e quindi sono arrivato al fondo del mio di quel determinato ramo ricorsivo ma poi mano a mano tornando indietro questa remove la svuota ne svuota uno per uno ok quindi al primo backtracking avrai parziale piena a cui è stato tolto un elemento ok e faccio andare avanti il ramo ricorsivo quando ho tolto quell'elemento ma se continuo a tornare indietro parziale si svuoterà mano a mano fino a ritornare al livello iniziale quindi tornando indietro parziale si svuota e io la riempio con elementi diversi non so è un po' difficile da spiegare a voce ma questo è un po' il concetto del backtracking è vero che parziale può arrivare ad essere piena ma poi torniamo indietro e con il backtracking mano a mano la svuotiamo e andiamo ad esplorare altri alberi altri alberi della ricorsione Mario ok si svuota lo stesso intendevo solo dire che non fa quello che ci aspettavamo cosa intendi accendi pure il microfono così ci capiamo si intendevo dire che nel test nel txt noi pensavamo di fare per esempio e1 oppure non e1 e1 e2 e1 cioè togliere dall'inizio subito l'esame certo questo è un problema nel txt che non mi permette di andare fino al fondo del ramo ricorsivo cioè ovviamente qui dovrei continuare a scendere fino a l uguale a n e poi solo a quel punto si arriverebbe qui ok 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 adesso è chiaro ovviamente questo questo schemino bruttissimo andrebbe espanso con tutto il ramo con tutto l'albero l'albero poi vedrete che quando riuscite a visualizzare mentalmente la ricorsione tutto diventa più facile abbiamo finito il tempo vi propongo se volete come esercizio da fare c'è un modo per migliorare anche le performance di cerca 1 e quindi di far arrivare la complessità di cerca 1 alla stessa di cerca 2 che è 2 alla n quindi se volete provare a farlo vi do questo suggerimento al posto di controllare solo se l'elemento è contenuto o no in parziale cercate di trasportare anche qui il concetto di ordine cioè andare in ordine nel senso che se io ho già inserito l'esame E3 ad esempio e l'esame E1 non è ancora in parziale è inutile che lo aggiunga perché io so che quell'esame viene prima di E3 quindi volendo si possono aggiungere dei controlli qui per evitare di controllare soluzioni inutili come quelle in cui gli elementi sono solo scambiati c'è ancora il problema dell'arymetic exception che ripeto devo controllare perché al volo non mi viene in mente magari stoppo un attimo la registrazione direi che la lezione è finita e poi proviamo insieme per chi interessa a risolvere questo problema